Piattaforme digitali per comunicare con i medici, condivisione dei dati dei pazienti, applicazioni per monitorare lo stato di salute. La sanità virtuale, o virtual health care, che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella sanità, è sempre più diffusa. Con risparmi notevoli sui costi e sull'efficientamento delle risorse. Tanto da coinvolgere anche colossi del tech come Amazon. Cos'è la virtual health care? L'organizzazione mondiale della sanità la definisce come l'uso efficiente e sicuro delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione a sostegno dei settori della sanità e relativi alla salute, tra cui l'assistenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria, l'educazione alla salute, la conoscenza e la ricerca. I campi di applicazione sono diversi e in continua evoluzione, così come lo sono le tecnologie. Vanno dallo scambio dei dati tra le strutture sanitarie all'uso di piattaforme per le prescrizioni farmacologiche e il controllo delle cure somministrate. Nel comparto entrano anche le piattaforme di virtual health care che consentono ai medici di condividere in cloud informazioni sui pazienti e collaborare nell'individuare le cure più efficaci, i sistemi di telemedicina e le applicazioni sanitarie, da quelle più comuni che monitorano i livelli di attività fisiche, stili di vita e abitudini, fino a quelle più complesse studiate per la prevenzione. Di malattie specifiche per il monitoraggio e la gestione di alcune patologie. Amazon e la sanità virtuale uno degli ultimi esempi è l'applicazione Amazon Care, creata da Amazon per i dipendenti di Seattle e loro le famiglie. La piattaforma permette ai lavoratori di mettersi in contatto direttamente con professionisti della salute tramite chat video e messaggi di testo. L'app al momento è disponibile solo per i dipendenti Amazon, e i loro familiari a carico idonei, che fanno parte di un piano sanitario. Amazon ha provato e vivono e lavorano nell'area di Seattle. Una volta che un dipendente si è registrato, può shattare con un medico tramite SMS o una videochiamata, ottenendo consigli o valutazioni di diagnosi. Se l'infermiere o il medico con cui si shatta pensano poi che il paziente abbia bisogno di una valutazione più approfondita, possono attivare la cosiddetta mobile care con l'invio di un professionista sanitario a casa, in ufficio o in un altro posto. L'infermiera inviata tramite mobile care può raccogliere campioni di laboratorio, eseguire alcuni test in loco, somministrare vaccini comuni o eseguire esami fisici. Un modo per risparmiare tempo e agire a domicilio in maniera personalizzata. Intanto il colosso guidato da Jeff Bezos sta collaborando con una società statale di Washington, Oasis Medical Group, per fornire anche il servizio di telemedicina. Il progetto pilota, per il momento concentrato solo su Seattle, arriva mentre il gigante della vendita al dettaglio sta entrando sempre più nel mercato sanitario. L'anno scorso l'azienda ha acquisito la farmacia online Pipec e all'inizio di quest'anno ha collaborato con sei organizzazioni sanitarie interessate all'uso dell'assistente virtuale Alexa per gestire le informazioni dei pazienti. Questo è il futuro della sanità o forse già il presente. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S.A. Esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6b. Rue du Fortnieder-Gwenwood, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono Suscettibili di modifica senza preavviso, la società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto. o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.